noi continuiamo a salire volevo fare notare come in questo fondo di fiume c'è una campionatura esaustiva di tutti i tipi litologici dei peloritani perché si passa dal calcare agli scisti cristallini, micascisti quindi proprio per il geologo, mi pare difficile la trovatura qui su, dobbiamo salire da qua si vede la parte meridionale di Monte Scuderi a destra vede la porta del monte, vede quel dente di calcare che c'è sulla destra e la porta del monte e a sinistra c'è questa amba calcarea inaccessibile su cui venne realizzata in epoca bizantina la fortezza bizantina di Mikos o Vikos di cui ancora rimangono cospicue tracce quindi per adesso lo vediamo da lontano però è un impegno assunto con i nostri telespettatori quello di ritornare su Monte Scuderi perché sarà sicuramente una bella escursione grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.